Ah, cosmetto, che è venuto, cosmetto, che è venuto, alla porta, ora all'eterna, alla porta, ora all'eterna, due persone, due persone, due persone, che si fa? Hai venuto? Sì, signor. Due persone? Sì, signor. Con una lenterna? Alla porta, alla porta, sì, signor. Chi si va? Chi si va? Zitti, zitti, piano piano, facciamo confusione, per la scala del balcone, presso gli amori e di qua. Ti, 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 piano piano, facciamo confusione, per la scala del balcone, presso gli amori e di qua. Ti, 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 ti Della scala del balcone presto andiamo via di qua! Shhh! Piano! Piano! Della scala del balcone presto andiamo via di qua! Zitti zitti ar! Della scala del balcone presto andiamo via di qua! Zitti zitti ar! Zitti zitti ar! Della scala del balcone presto andiamo via di qua! Presto andiamo via di qua! Via di qua! Via di qua! Via di qua!